25 anni fa abbiamo cominciato a premiare i giovani che pur portatori di malattie neurologiche, di affezioni, di problemi di vario genere, frequentano le scuole della provincia, le scuole medie inferiori e superiori e tengono buoni risultati perché si impegnano, perché studiano. Il primo premio ha premiato una sola ragazza perché ancora non c'era una diffusione. Adesso mediamente le domande annualmente sono di 80, 75, 80. Il numero si è attestato ormai a questo numero. Di questi ne premiamo sicuramente 50 fino ad arrivare anche a 60. È un bel traguardo quello di averlo fatto da 25 anni perché stiamo praticamente raggiungendo il numero di mille studenti premiati, il che penso che ne sia proprio poco. Il bando di quest'anno è stato compilato in maniera forse pignola perché quasi la metà delle domande che ci arrivavano erano o incomplete o sbagliate o prive di nome o prive di certificazioni valide e quindi abbiamo fatto un'elencazione in minuta di come va compilata una domanda. Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile di quest'anno. Quest'anno pensiamo anche, passato in tutto il periodo della pandemia, di rifare la cerimonia in presenza, chiamando in fondazione tutti i giovani che sono stati premiati per la consegna di persona, probabilmente fra il mese di ottobre e il mese di novembre.